Una giornata, quella di ieri, da ricordare per lui e da incorniciare per lo sport regionale. Luca Corrado è il primo molisano ad accedere al circuito professionistico riservato ai bodybuilder. In Egitto, al mister Olimpia Mateur del Cairo, l'atleta Isernino ha conquistato due primi posti, sbaragliando la guerrita concorrenza composta da 67 atleti provenienti da tutto il mondo. Una gara serrata e per gli amanti del genere davvero spettacolare, che per Corrado rappresenta il trionfale coronamento di un percorso fatto di duri allenamenti e altrettanti sacrifici. I presupposti per la vittoria di ieri in realtà c'erano tutti. Il bodybuilder nostrano è reduce infatti dalla lusinghiera performance di Alicante. Proprio in Spagna, nell'ambito di una delle gare più prestigiose del circuito, aveva dimostrato di valere gli atleti top 5 d'Europa. Essere stato il primo a portare il professionismo in Molise, in questa disciplina, è il coronamento di un sogno e di un percorso fatto di passioni e tanta abnegazione, che alla fine hanno pagato. Che dire a Luca Corrado se non il Molise ti applaude. Ad mai ora!